Non si barcolla più nel buio per quanto riguarda la questione calcio di Isernia, a ridosso del 28 luglio, termine ultimo per presentare la regolare domanda di iscrizione al campionato di eccellenza molisano. A questo punto è necessario fare un po' di chiarezza. Il dato certo è che l'Isernia Football Club sarà regolarmente in assi di partenza del massimo torneo regionale, come ci assicura Mario Ciampittiello, imprenditore isernino avvicinatosi al club bianco-celeste già la scorsa stagione. Il quale, lo ricordiamo, diede un grande contributo affinché la squadra, che allora militava in Serie D, potesse portare a termine la stagione. Bene, il commerciante isernino ha ripreso in mano la situazione con il prezioso aiuto di persone, amici, che in primo luogo sono tifosi dell'Isernia. Ad oggi, afferma Ciampittiello, sono state pagate tutte le vertenze, ad eccezione di Capuozzo, con il quale si sta in queste ore cercando un accordo. Altra chiarezza è d'obbligo sulla società. Isernia, anche per questa stagione, sembrava essere meta di 600 imprenditori, disposti, questa volta almeno con interessi dichiarati, a fare calcio nel capoluogo Pentro. Il riferimento, ovviamente, è al Beneventano Falzarano, che ad oggi sembra non aver messo sul tavolo nulla di concreto. Fatto sta che il titolo è nelle mani di Ciampittiello e soci. Guilio Petrarca, presidente ai tempi di Petrangelo, ha firmato le dimissioni, ci fanno sapere, e nei prossimi giorni si andrà a definire anche l'organico societario. Tutto lascia pensare che Ciampittiello diventi ufficialmente il numero uno biancoceleste, tuttavia potrebbero esserci delle sorprese. Per concludere sulla questione Falzarano, l'imprenditore Sernino sottolinea che né lui né Amauriello hanno un ruolo in società. Tuttavia si dice disposto a stringergli la mano qualora le loro intenzioni dovessero andare concretamente al di là delle sole promesse. Intanto la società, se da un lato era impegnata a pensare a reperire i soldi per pagare le vertenze, dall'altro ha anche pensato a gettare le basi per la nuova squadra. Per ora abbiamo l'ufficialità del nuovo allenatore, che in linea con quanto predicato è l'Isernino per Luigi De Bellis, scorsa stagione in forza al Fornelli. Il giovane mister ha già preso contatti con diversi giocatori del posto che si sono resi disponibili a sposare la causa biancoceleste. Sono per buona parte giocatori esperti della categoria. Intanto anche il lavoro, volto ad avvicinare gli Sernini al club, sta dando i primi risvolti positivi. Tra i primi a sposare la causa c'è l'imprenditore Mario Mariani, che ha già dato un suo contributo. Tuttavia ci sono altre situazioni in piedi che devono ancora definirsi. L'unica cosa certa è che si tratta di forze locali. A questo punto non si può far altro che essere fiduciosi ed appoggiare chi concretamente sta lavorando in questi mesi, facendo sì che il calcio di Sernia non sparisse di nuovo, cosa che sembrava un'utopia al termine della scorsa stagione.